OST 2019, siamo allo stand della Foodness, una delle aziende italiane più importanti nel settore delle forniture di solubili per i bar, i ristoranti, i chioschi, le gelaterie e tanto altro. Ci troviamo in compagnia di Sara Lusetti, la responsabile marketing dell'azienda. Sara, bentornata. Grazie, bentornata anche a voi. Quali le novità presentate in questa occasione, nella 41esima edizione di OST? Le novità sono come sempre diverse, tante. La principale è il ginseng life free amaro, che probabilmente è il prodotto che al momento ci caratterizza di più, in quanto siamo riusciti a togliere anche gli additivi. Quindi abbiamo ora un caffè ginseng senza zuccheri aggiunti, senza sciroppo di glucosio, senza additivi, ovviamente senza glutine e senza lattosio, però anche con 200 mg di estratto di ginseng panax e oltretutto è anche alto contenuto di fibre, quindi non abbiamo solo tolto ma abbiamo anche aggiunto. Altre novità sono Mini Kao, che è da una referenza, ora la gamma passa a tre, e quindi abbiamo il Dark, che è l'alternativa perfetta per il posto del caffè, è un cacao espresso fondente, e quindi poi abbiamo Ruby, che è di colore rosa, naturalmente rosa, perché si ricava dalle fave di cacao Ruby, originarie dell'Equador, e viene chiamato il cacao di quarta generazione perché è una nuova scoperta, si aggiunge al fondente, al latte e al bianco. E poi l'ultimo è il Gold, che invece è un cioccolato bianco molto buono, con note di toffee, di caramello e con una leggera punta salata del sale della Bretagna sul finale. E un'altra novità è questa che vediamo qua dietro, il Kidness, che è una nuova gamma di prodotti, per ora la riferenza è un ciocco buono, è una bevanda al cioccolato, senza glutine, senza lattogio, senza zuccheri aggiunti, è dato contenuto di fibre e proteine, è un prodotto nuovo per un bar, nasce dalla necessità di soddisfare delle nuove categorie di consumatori, che sono le famiglie per esempio, e viene servito con una tazzina molto carina, molto simpatica, in fibra di bambù, e quindi pensiamo che possa intrattenere i bambini nella pausa al bar. Perfettamente in linea con Slurp Kids, il progetto nato proprio a favore del consumo intelligente, rivolto ai bambini. Sara, voi innovate e rinnovate, siete continuamente più avanti di un passo rispetto a tantissimi altri, quante ore a notte dormite? Pochissime, noi non dormiamo di notte. Siamo perennemente alla ricerca di modificare, di migliorare, di togliere, ma di aggiungere alle nostre ricette in modo da avere un prodotto quanto più pulito possibile si possa avere al momento, insomma, quindi questa è la nostra missione, siamo nati per questo e andremo avanti ancora. E allora, noi ci rinfreschiamo con una delle primizie di Foodness, tu nel frattempo puoi salutare tutti loro invitandoli a scrivere all'indirizzo di posta elettronica info-foodness.it oppure compilare il form sul nostro sito senza alcun impegno affinché possiate avere tutte le informazioni che desiderate per entrare in contatto con Foodness. Grazie Sara! Grazie a voi, grazie a voi, alla prossima!